Buongiorno ragazzi, che giorno è oggi? È il compleanno di Vanessa e stamattina la voglio svegliare così, venite con me. Hey Google, metti su YouTube tanti auguri Vanessa. Perfetto, metto tanti auguri Vanessa buon compleanno happy birthday su YouTube Music. Tanti auguri a te, tanti auguri Vanessa, tanti auguri a te. Buongiorno amore, buon compleanno amore mio, auguri, ciao amore, auguri amore. Piccolina mia, che sta diventando grande la mia piccolina. Ciao cucciola, di chi è il compleanno oggi? Di chi è il compleanno oggi, Ani? Ehi cucciola, ma con chi facciamo la nanna? Con chi facciamo la nanna? Sentite quanto è felice questo gatto. Amore, dobbiamo andare a comprare la colla. Ti svegli? Cucciola, dai io non sto già su, ma proprio stamattina. Amore, ricordati di portare la super merenda che oggi porterai a scuola e mangerai insieme ai tuoi compagni. Ma questi compagni oggi merenda a scuola e super merenda dopo la scuola, eh? Vero? Merenda, cena. Sì, cena, è vero. Allora, hai preparato la merenda invece? Ah ma non la porti tu oggi a scuola? No, sì. Quindi porti lo stesso la merenda anche se hai questo? Sì. Ok. Ok bimbe, andiamo a scuola. Dai che voglio andare a comprare da Anastasia alcune cose per la scuola. Andiamo? Siete pronte? Qualcuno prende il proprio zaino? Eh? Come? No, io lo faccio. Eh vabbè, dai. No, no, cosa c'è qua dentro? I mattoni? Ti la fai tu, topino? La mattina Anastasia si è svegliata molto raffreddata ed è un po' nervosina. Eh? Adesso ti passo, dai. Ciao ragazzi, sono appena uscita dalla doccia e tra pochi minuti andrò a prendere Vanessa Anastasia e finalmente festeggeremo il suo compleanno. Ma guardate nel frattempo quale video mi è arrivato dalla sua classe. Che bella sorpresa che le hanno fatto le maestre a scuola. E voi ragazzi, vi fanno festeggiare il compleanno in classe? Scrivetemelo nei commenti. Ma adesso devo correre subito a prendere le bimbe a scuola. E iniziamo la festa. Sì, sono fuori dalla scuola delle bimbe, stanno per uscire. Nel frattempo sono andata a prendere una confezione regalo per un regalino che oggi consegnerò a Vanessa. Ma voi dovete sapere e non dovete dirglielo, soprattutto non dovete scrivere nulla nei commenti, che sabato ci sarà una festa sorpresa per Vanessa con altri amichetti di cui lei non è assolutamente a conoscenza, ok? Quindi questo sarà un primo regalino, poi sabato gliene farò qualcun altro e proseguirò con il video. Sono uscita di scuola e c'è qua Gaia e Asia e Anastasia. E adesso andiamo al Burger King a festeggiare il mio compleanno. Ciao, ciao, a dopo. Ah, finalmente una piccola parte del gruppo che ci sarà oggi alla festa di Vanessa. Ciao, ciao, bianca. Ciao, ignazio. Ciao, Diego. Dai, presentatevi, dai. Diego. Ciao. Brenda. Mi dico. Daniel. Kevin. Daniel. Su. Ignazio. A me. Gaia. Bianca. Teresa. Giorgia. E? Giada. E Vanessa. E Vanessa. Siamo fuori, aspettiamo che arrivano gli altri bimbi. E Alessandro, manca ancora qualcuno? Adesso vediamo. Ma Nico, vieni. Maria. 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 Ok, va bene, dai, giocate un pochino qua fuori che poi andiamo dentro e ordiniamo da mangiare, ok? Sì. Ciao. Ciao, Asia. E Ani. Ciao, amore. Allora, cosa stiamo facendo adesso? Un gioco? Un gioco. Sì? Con l'animazione? Vediamo di che gioco si tratta, ok? Andiamo qui. Sei una principessa. Bianca. Dove abbiamo? Amore, cosa si mangia oggi? Mia, Giada, Ignazio, Kevin e Vanessa. Sì, stiamo giocando a buzzi con le spalle. La prima spalle. Vale. Come sta andando, bimbe? Bene. 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 E allora, Ami, dovete? Ciao. Ale, sei arrivato anche te. Oh, già che amico. Ciao. Hai fame? Avete fame? Sì. Dai, tra pochi minuti arriva da mangiare. Poi giochiamo ancora. Oh, dai. Poi c'è lo scarto regali. Sì. Ecco, lei. Siete affamate? Sì. Eh? Adesso arriva la pappa, amore. Eh, Ani? Dimmi, Tere. Ti devo dire cosa ho regalato a Vanessa. Dai. Il pantalone, l'ho regalato. I pantaloni quelli lì lunghi. Quelli che piacciono a me. Sì. Bravo. E poi l'ho regalato, tipo una maglietta marroncina con le balle. Che bella. Sarà contentissima, Tere. Grazie, amore. Buon appetito, amore. Buon appetito. Adesso arriva, eh, a Vanessa. Adesso arriva, perché sono ancora lì che stanno arrivando, eh. Cosa state aspettando? Un appetito. A te non arriva il cibo. Andai, andai. Devi restare in linea e in forma. Che cosa da mangiare? Ah, è arrivato? Sì, è arrivato a mangiare. Wow, c'è un appetito. Perché ha mangiato? La piccolina. Tre. Tre. Uno. Brava. Andiamo a mangiare la torta? Sì. E la portate voi? No, purtroppo non si può. No. La danno loro. Quella al cioccolato? Ah, ma non la conosci. No, però è buona. No, sì che la conoscerò. Ok. Ma io non l'ho assaggiata perché la cioccolina era andata via prima. Ah, ok. Andiamo dentro, va. In botte. Cosa state facendo? Che gioco è questo? Il calcio? Non va? Non lo diciamo. Come mai non va? Non lo so. Adesso, primo regalo. Tanti auguri, bene, buon compleanno, gioia. Con affetto, Laura, Martina e Cristina. Cosa sarà mai? Laura? Ma cos'è? No! No, cos'è? 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 Quale a me? Come si dice, amore? Bacione, Laura. Guarda il gaffino. Anche se lo ho. Vieni, io ce l'ho. Prima il gaffino, poi dopo. Ti piace? Sei contenta? Bacino. Dai bacio alla Laura. Giulia, vieni. Gioroni, tu dà. Quante torre! Dai, guarda che sta dicionando. Dai! Ci siete tutti, bambini? Cante auguri a te! Cante auguri a te! Cante auguri a te! Com'è la torta? Vanno? Non è una piaccia di cucchiaino. I cucchiaino sono un po' scomodi, vero Giorgia? Ti piace? È buona? Io non ce l'ho mai. Perché? Non ti è piaciuta? Tu l'hai mangiata la settimana scorsa. Non ti è piaciuta? No, non l'ho mai. Non l'hai mangiata? Ok. Apriamo i regali? Ti voglio aprire per prima. Anzi no, tu per ultimo. Ah, Teresa, Teresa. No, no. No, no. Perché? Dai, amore. E di Sofia? E di Sofì? Di Sofì. Dov'è Sofì? Ah, amore, scusa. Ciao, amore. Scusami. Ciao. Cos'è? Fa vedere? Belli. Fa vedere, ma? E' bellissimi? Sì. Bellissimi. Cattola. Apriamo questi. Il figlio, il figlio. Di chi è questo? Di Bianca? Sì. Di? Sì. Me la regali? Wow! Di tutti. Bello. È di tutte. L'abbiamo pagata anche noi. E' di tutti, bello. Allora. È di tutti. È di tutti. Ok. È di tutti. Va bene, va bene. Questo regalo è di Bianca e delle sue compagnie. Ok? Bianca, Bianca, poi ci... Bianca, Bianca. Sì. Bianca. Poi ci spieghi come funziona, però, eh? Vai. Ah, solo? Ah, ok. È la macchina. Cos'è questo? La macchina? No, è la custodia. Ah, ok, ok. Va bene. Grazie. Guarda. Buongiorno. Apri. È bella. È bella di Teresa. Dai, ma non apriami che vuole. È bella di Teresa. Allora, si uniamo. Da Teresa, tanti auguri di buon compleanno. Ti voglio un mondo di bella. M'amore. Vane, vai. Bellissimi. Bellissimi, Vanessa. M'amore. Anzamp. Vane. Wow. Che bella. Wow. guarda anche la maglietta ma questa l'avevo messo Vanessa come si dice? grazie per la gioia di Vanessa e Anastasia bello che io lo voglio ha detto quello di Giorgia ci ha scritto un bianco l'ultimo regalo e poi Anastasia scendi perché Giada si sta lì c'è scritto da Nicola c'è anche una lettera io so questa a casa bellissimo grazie buon compleanno ti voglio bene da Giorgia e Mattia ti voglio bene grazie Vanessa è ancora a dire grazie 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 mamma guarda questo profumo ma che ce l'ho così bellissimo ah ah tu non ce l'hai wow questo lo uso io però eh tutta cosa profumata eh questi sì io pure ce l'ho cosa c'è? cosa c'è? si ha comprato d'Action cosa c'è? è la bomba anche io ce l'ho grazie io ce li ho io ce li ho grazie Giorgia aspetta 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 devi aprire anche l'altra quale? l'altra la portata cos'è? i bracciali ah buono quelle che si alluminano belli ma ci sono anche i diamanti cioè bellissimi abbiamo abbiamo io qua ho messo tutti i miei è una scatuta qua c'è eh ma dovrebbe vieni amore questo è per te da parte nostra uh anche io ce l'ho ah io ce l'ho wow fa vedere sì un orologio anche io ce l'ho quella c'è è figo ma si muove guarda oh bello bello buon copriano principessa un orologio un orologio mai tanti auguri dalla tua famiglia che ti ama tanto mamma papà Agne e Dani ah anche da Gasper e Olivia Anastasia ma ho un pensierino eh non pensare amore è un pensierino per Anastasia ha proprio un pensierino felice è un pensierino per Anastasia ora abbiamo pure delle fangeli l'amore perché tu sei coccolonna siamo tornati a casa come è andata Vanna ti sei divertita? è stato bello vero con tutta la classe abbiamo dimenticato di leggere un biglietto vero? vuoi leggerlo adesso? sì tantissimi auguri di buon compleanno dai tuoi compagni della Quarta B Bianca, Ignazio, Albino, Antonio, Daniel, Diego, Giulia, Martina, Giada, Brandon, Kevin, Gaia, Alessandro e Sofia bene sei stata contenta dei regali che hai ricevuto? ti sono piaciuti? sono stati tutti belli la festa è stata bellissima e tu sei stata molto brava ad averli invitati tutti e sono venuti tutti oltretutto vero? sono stati bravissimi sei stanca adesso lo sai che devi studiare storia che angoscia comunque dobbiamo farlo dai mangiamo se avete fame e poi studiamo insieme sei divertita Ani? sì ma senti ma il tuo compleanno lo vuoi festeggiare al Burdino King? no vuoi andare a lavorare? ok allora il video finisce qui Vanessa il video del tuo compleanno prima parte del tuo compleanno perché magari ce ne sarà una seconda parte con i nonni se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel like a questo video ciao ciao